Ci sono guardrail in cemento che bloccano l'accesso alla strada chiusa al traffico veicolare. Ci sono ponteggi e impalcature che proteggono da una parete pericolante, ma sono ancora fermi i lavori per ripristinare quella normalità che in via San Decenzio si è interrotta il 7 ottobre scorso. Una giornata in cui il maltempo sferzò la costa con pioggia e raffiche di vento violente, rendendo precaria la stabilità di pannelli e calcinacci della parete laterale del Tribunale di Pesaro. Quasi due settimane fa il comandante della Polizia Locale Francesca Muzzini ha emanato un'ordinanza per chiudere al traffico la strada che affianca il Tribunale rendendo off-limits alla circolazione delle auto il transito nel tratto compreso fra via Manzoni e via Orazio Flacco. I disagi però non sono solo circoscritte ai residenti delle vie in questione perché l'interruzione di fatto chiude uno sbocco stradale che collega settimanalmente centro storico, zona mare e il sottopassaggio che conduce verso il cimitero e le zone residenziali di Pantano e Loreto. Alla base della chiusura ci sarebbe una caduta intermittente di piastrelle dalla parete del Tribunale scatenate da una gronda pericolante. Contrariamente alle previsioni però i lavori indicati come imminenti una dozzina di giorni fa sono tuttora in stallo perché mancano ancora i preventivi delle ditte interpellate ad intervenire nell'area del palazzo menomato da giunti ammalorati. Dunque si attende ancora il via a lavori che comporteranno un investimento di ben mezzo milione di euro su un tribunale che mostra una precarietà che malsaddice ai suoi appena 15 anni di vita.